Musica Sensibilizzare i cittadini sui fenomeni sempre più diffusi dell'abbandono e del maltrattamento sugli animali. Questo lo scopo dell'iniziativa di domani, sabato 10 ottobre, Enjoy Herculaneum, promossa dal Rotaract Club Torre del Greco, Comuni Vesuviani. Alle ore 15 avrà luogo una visita guidata al Parco archeologico di Herculano, un viaggio nella storia per riscoprire tutto il fascino della vita romana. Il ricavato dell'evento sarà devoluto al rifugio Mau di Portici e all'Associazione Gli Angeli Randaggi del Vesuvio di Torre del Greco. Abbiamo organizzato assieme ad altri sei club una visita guidata agli scavi di Herculano per raccogliere dei fondi ed aiutare l'Associazione Gli Angeli Randaggi del Vesuvio di Torre del Greco. Queste due associazioni si occupano di aiutare i nostri amici a quattro zampe per ricordarci sempre di loro e per appunto non abbandonarli. In particolar modo con la raccolta che faremo doneremo a loro delle pappe, quindi il cibo per questi animali e poi delle spese mediche che sosterranno queste associazioni. Quindi maggiormente il nostro obiettivo è cercare di sensibilizzare l'abbandono di questi animali che purtroppo nelle nostre zone spesso vengono abbandonati. Per Aspera ad Astra è il motto dell'Associazione, composta da un gruppo di giovani torresi uniti dall'obiettivo comune di mettersi al servizio del territorio mediante la realizzazione di iniziative. Il mio motto anche che porto avanti quest'anno è Per Aspera ad Astra, che significa appunto attraverso le difficoltà per arrivare alle stelle. Quindi noi vogliamo assolutamente, soprattutto in questo periodo di difficoltà, arrivare alle stelle, quindi cercare di dare il massimo e di essere soddisfatti del nostro operato. Quali saranno le prossime iniziative della vostra associazione? Noi abbiamo diverse iniziative, infatti la nostra associazione mira soprattutto a fare service. Il service per noi è importante perché noi siamo al servizio del nostro territorio assieme ad altri club. Abbiamo come iniziative quelle maggiormente telematiche perché non possiamo oggi purtroppo fare diversi eventi in presenza e quindi ci limitano un po' come associazione. Però noi andremo avanti ugualmente sia per la formazione dei ragazzi, professionale ma anche personale. Per chi vorrà prendere parte all'evento sarà assolutamente imprescindibile compilare il form, poiché l'accesso è a numero contingentato nel rispetto dei protocolli anti-covid-19. Sulle nostre pagine Facebook e Instagram dei vari club che partecipano appunto all'organizzazione di questo evento è possibile iscriversi a un form dedicato all'evento. E appunto l'incontro è agli scavi di Ercolano, sicuramente entreremo in gruppi ridotti perché le normative attuali prevedono appunto un distanziamento e noi diciamo intendiamo seguirle assolutamente. E quindi appunto tramite le nostre pagine si compila il form, in loco diciamo ci saremo noi ad aspettare le persone interessate e poi sarà un piacere guidarvi all'interno dei scavi. Ricordiamo quali sono i contatti? I contatti appunto sono sulla pagina Instagram del Rotaract Club Torre del Greco Comuni Vesuviani e sulla pagina Facebook Rotaract Torre del Greco Comuni Vesuviani. Grazie per la visione!